È una scelta che indicativamente ci sto rimurginando da una cinquantina d'anni, da quando vedevo alla fine degli anni 70 le famose tribune politiche dove vedevo l'esponente radicale Marco Pannella con la Bonino che si bavagliavano e dicevano contro la partitocrazia. Il lotempore era un semplice adolescente, vedevo e poi ho sempre avuto la passione della politica, però l'ho studiata a modo mio, cioè al di fuori della partitocrazia e adesso propongo un progetto rivoluzionario. Quali sono i punti fondamentali? Il mio programma si articola in dieci punti, ma traggono origine dall'etica. Ricordo brevemente che l'etica è nata 25 secoli fa in Grecia e non altro che la distinzione tra il bene e il male nelle scelte che l'uomo deve fare al di sopra delle leggi umane. Quindi una cosa va fatta per il popolo, va fatta per i cittadini, sia una cosa che porta del bene. Non va fatta sia una cosa fatta del male. In antitesi a quella che è stata la partitocrazia negli ultimi 70 anni. Il turismo deve essere la punta di diamante. Ragazzi non ci dimentichiamo che io sono stato adolescente negli anni 80. Nel anni 80 Francavilla era la perla dell'Adriatico, adesso è diventata la perla nera. Perché io ricordo che dal compianto Gianni Angelucci, padre di Roberto Angelucci, al sindaco protembole Luciani Antonio, quello che io ho sbeffeggiato giustamente è Antino Redeproci, dei 9232 Proci che nel 2016 gli hanno dato in mano Francavilla. Francavilla, abbiamo le macerie di Francavilla. Francavilla è l'inno amministrativo, culturale, economico, sta come nel dopoguerra nel 1945. Allora per una rinascita di Francavilla bisogna azzerare, formattare tutta la macchina di Francavilla e ripartire da zero con principi etici. E sarà complicato? No, 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 per chi non conosce la materia. Io modestamente sono dieci anni dal 2011 che ho pianificato tutto. I protocolli ci sono, la mia squadra di consiglieri è pronta e sono tutti giovani perché secondo il mio concetto i giovani consiglieri devono essere rappresentativi di ogni quartiere, tipo il Presidente del Comitato dei Quartieri e devono portare in Consiglio Comunale i problemi. Poi la squadra di governo, se permettete, la legge mi dà la possibilità, nei primi 100 giorni gli assessori li nomino io perché devono essere assessori tecnici, cioè esperti in materia, che prenderanno lo stipendio solo se realizzeranno i loro mini programma. Perché io vorrei dire una cosa, a Francavilla si è fatto l'inverso, si è stato nominato assessori solo perché avevano preso 250-300 voti da consigliere, poi andavano a fare gli assessori e ne sapevano meno degli dirigenti competenti. Ma possiamo cambiare Francavilla in questo momento? Secondo me no. Grazie a tutti.